Regione, De Ghetano dentro, l'anzetta fuori, attesi rientro del governatore Mario Oliverio dopo l'elezione del capo dello Stato. Ostentata serenità nel rapporto con il premier Renzi dopo il varo della giunta regionale. Clan Pesce, la stangata dell'accusa, il processo d'appello All Inside, le pesanti richieste dell'accusa che chiede siano ribaltate le 21 assoluzioni di primo grado e che vengano inasprite le pesanti condanne già infilte. Rifiuti tossici nel Bibonese, intervento parlamentare, la deputata grillina Dalila Nesci interpelle il governo sulle indagini in corso dopo le dichiarazioni rese dal boss pentito della camorra Carmine Schiavone. Ansaldo Breda, arriva il colosso Itachi, giapponesi pronti a sbarcare il rivallo stretto. Finmeccanica vuol liberarsi del segmento ferroviario, ma la situazione dello stabilimento Regino ora è vicina a una soluzione. Giornalisti, Carlo Parisi in pol per la FNSI, il segretario del sindacato calabresi e uno dei due candidati per la guida della Federazione Nazionale della Stampa a Chianciano. Conta sul sostegno di ben 19 delegati calabresi. Buon pomeriggio e ben trovati dalla Cina. Apertura alla politica, pausa romana per il governatore impegnato nell'elezione del capo dello Stato. Ma al ritorno Mario Oliverio dovrà sciogliere più di qualche nodo a pettine del suo esecutivo. Intanto attese per oggi le dimissioni da ministro di Maria Carmela Lanzetta. Sentite. Sembrano ormai una cosa sola, almeno in apparenza, Matteo Renzi e Mario Oliverio reciproci gli attestati di stima strette di mano e pacche sulle spalle. Addirittura l'abbraccio romano nella giornata di ieri, ingredienti di un'intesa che non può mettere però a tacere i disguidi dei giorni scorsi. Eletto il capo dello Stato, il governatore dovrà rituffarsi però nell'arena calabrese. Il 6 febbraio è previsto l'assemblea regionale del PD e non è detto affatto che il segretario Ernesto Magorno ne esca sano e salvo. Peraltro da capire rimane come il presidente della regione venga fuori dalla vicenda dei Gaetano, l'assessore sul quale alleggia il pesante sospetto racchiuso nelle carte dell'inchiesta contro il clan Tegano di Archi che ha portato a 25 arresti nello scorso mese di dicembre. Maria Carmela Lanzetta, che tra qualche ora dovrebbe dare le sue dimissioni da ministro, non entrerà nell'esecutivo. Delusa l'ex primo cittadino di Monasterace è pronta a ritornare alla professione di farmacista perché è difficile da mandare giù il metodo usato dal Premier per scaricarla dall'esecutivo nazionale. Queste almeno le sue parole di ieri. Quanto a De Gaetano, le affermazioni di Gaetano del Rio non sono state ancora ufficialmente smentite da Renzi. Anzi, fonti di Palazzo Chigi rassicurano che il Premier e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Con buona pace di entrambi, Oliverio non intende però tornare sulle sue decisioni. Dunque, l'ex consigliere regionale di rifondazione comunista rimarrà nell'esecutivo che per il momento dovrebbe restare a tre in Calabria. Il tutto mentre gli alleati di centrosinistra, dai socialisti a centrodemocratico, fino a SEL chiedono un allargamento del governo regionale al governatore. Insomma, centrosinistra in ordine sparso, segno che, conclusa la pausa romana per l'elezione del Capo dello Stato, il governatore dovrà rituffarsi suo malgrado nella bolgia infernale di Palazzo Alemanni. Ed ora la cronaca. Clampesce. L'accusa dice assoluzioni da ribaltare. Queste sono le richieste di pena formulate dall'accusa nel processo d'appello alla cosche gemone a Rosarno. Tra gli assolti in primo grado, il boss Roccopesce. Sentiamo. 21 assoluzioni da trasformare in condanne e l'inasprimento delle pene già inflitte all'esito del processo di primo grado. Questa la richiesta formulata dall'accusa al processo d'appello All Inside, scaturito dalla storica maxi-operazione antimafia che disarticolò il clan Pesce di Rosarno e che, sei mesi dopo il blitz, condusse al pentimento eccellente di Giuseppina Pesce. L'accusa ha richiesto un aggravio di due anni sui 28 giorni mediati in primo grado per Antonio Pesce, il vertice della cosca, ritenuto uno delle figure più influenti dell'andrangheta dentro e fuori i confini della Calabria. A seguire, 28 anni di carcere per Salvatore Pesce, padre della collaboratrice Giuseppina, e per Vincenzo Pesce, la cui colpevolezza era stata già riconosciuta in primo grado con pene relativamente inferiori. Così come un legger aggravio è stato chiesto anche per il marito della pentita, Rocco Pelaia, in primo grado 21 anni e due mesi di reclusione, per il quale è stata richiesta una condanna a 22 anni. Tra le 21 assoluzioni eccellenti da ribaltare in appello, secondo l'accusa, quella di Rocco Pesce, un altro dei vertici della cosca, 25 anni e quanto ha chiesto il PM. Tra gli imputati, anche due ormai ex carabinieri, per i quali è stata chiesta la conferma della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Ed ora parliamo dei rifiuti tossici nel vibonese intervento parlamentare, interrogazione della deputata Grilina Dalila Nesci, sulle dichiarazioni alla commissione d'inchiesta sull'ecomafia del boss camorrista pentito Carmine Schiavone. Sentiamo. Sulla discussa ricerca di inquinanti nel territorio vibonese, pare riconducibile alle dichiarazioni desecretate del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, la deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci ha presentato un'interrogazione rivolta ai ministri della Salute e dell'Ambiente, per sapere quali provvedimenti di competenza abbiano adottato o intendano adottare a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'atto parlamentare prende spunto dalla recente notizia, ha premesso formalmente la rappresentante del 5 Stelle, di presunti accertamenti, perfino con elicotteri in volo, sulla possibile presenza di rifiuti altamente nocivi nel territorio di Rombiolo, Nicotera, Limbadi, Monteporo e Fabrizia, ubicati nella provincia di Vibo Valencia. Per la deputata pentastellata è necessario condurre indagini approfondite, anche alla luce della preoccupante diffusione di patologie tumorali registrate in alcuni comuni della provincia di Vibo Valencia. Ed ora vediamo insieme le altre notizie di cronaca della giornata. Il fatto non sussiste, con questa motivazione il Tribunale Collegiale di Reggio Calabria presieduto da Mattia Fiorentini ha assolto Pietro Celestino Locati, Vincenzo Tagliaferro, Alessandro Maria Pozzi, Matteo Arpe e Roberto Marini. Rappresentanti di alcuni tra i più importanti istituti di credito gli imputati erano accusati di usura nei confronti dell'imprenditore Nino De Masi, noto per la sua lotta antimafia e titolare di diverse aziende che nel corso degli anni sono state versaglio di attentati e danneggiamenti. Avrebbe ucciso la 19enne di origine rumene Florentina Boaro, il cui corpo fu ritrovato avvolto in un telo nel greto del torrente Colognati a Cosenza. Cosimo De Luca, 44 anni, di Rossano, è stato condannato all'ergassolo dalla Corte d'Assise. Il delitto risale al 16 aprile del 2013. Ha partecipato ad un torneo di scacchi a Sant'Ilario e allo Ionio e poi fermato per un controllo dai carabinieri li ha aggrediti. Per questo un cittadino ucraino, Vladislav Peliushenko, di 42 anni, residente a Cerignola, è stato arrestato dai carabinieri di Locri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire alle proprie generalità. I militari hanno riportato lievi contusioni. Sei messi sul mercato avrebbero avuto un valore di circa 2 milioni di euro e 10 chilogrammi di cocaina nascosti all'interno di un'autovettura e sequestrati dalla Guardia di Finanza durante controlli effettuati nei pressi dello svincolo di Lauria sull'autostrada a 3 Salerno-Reggio. Il conducente, un uomo di origini calabresi, viaggiava verso Reggio Calabria. La droga, secondo quanto si è appreso, era nascosta nelle cavità dei pannelli degli sportelli posteriori. Beni per 130 milioni di euro sono stati sequestrati in Calabria e in altre 7 regioni dai carabinieri del nucleo investigativo di Padova. I beni sono risultati riconducibili a un campano legato ad un noto clan della Camorra sospettato di riciclaggio di ingenti somme di denaro. I militari dell'arma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Tribunale di Padova. L'operazione ha visto impegnati circa 400 militari che hanno operato con il supporto dei comandi provinciali interessati anche nella provincia di Cosenza. Ennesimo atto vandalico nel Vibonese. Sono stati presi di mira i cassonetti dell'immondizia a Vibomarina, il cui centro abitato si è svegliato sotto una cappa di diossina. Sentite. E' il secondo atto vandalico in un mese. Presi di mira altri cassonetti dell'immondizia. Questa volta i soliti ignoti hanno dato alle fiamme quattro bidoni ubicati nei pressi del palazzetto dello Sport. Cassonetti a quell'ora pieni di pattume e le cui fiamme inevitabilmente hanno sprigionato diossina, sostanza altamente nociva. Tutto l'abitato della frazione marinara per diverse ore è stato invaso dall'odore acre del fumo. Sul posto, per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Vibomarina. La notte del 15 gennaio scorso, i vandali incendiarono altri cassonetti dell'immondizia. Anche allora l'episodio fu denunciato ai carabinieri della locale stazione. Per il responsabile della progetta ambiente a Rino Farfaglia si tratta dell'ennesimo gesto inqualificabile che vanifica il lavoro degli operai della ditta a tutto discapito della comunità vibonese. L'episodio è stato portato a conoscenza del prefetto di Vibo Valencia, al massimo rappresentante istituzionale del governo, la richiesta di intensificare i controlli nel territorio anche attraverso l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza. Ansaldo Breda, arriva il colosso Itachi. La situazione per lo stabilimento di Reggio Calabria sembra vicina ad una rivoluzione finmeccanica. Infatti vuole liberarsi del segmento ferroviario aprendo così la strada alla vendita dell'azienda. Sentiamo. Sembra sempre più concreto l'acquisto da parte del colosso giapponese Itachi dell'ex officine Regine Omega. Un passo autorizzato dal CDA che, preso atto della relazione dell'amministratore unico, Mauro Moretti, ha confermato il via libera alle negoziazioni con la speranza di raggiungere al più presto una decisione positiva per l'azienda. L'ansaldo rappresenta un valore aggiunto per l'economia reggina e anche il premier Matteo Renzi, durante la sua ultima visita agli stabilimenti, aveva garantito l'inserimento di Reggio in un programma di rilancio ben preciso. Lo scenario dovrebbe essere quindi vicino ad una svolta concreta, con l'accelerazione delle decisioni di fin meccanica, ma i punti interrogativi sono ancora tanti. La vendita potrebbe portare dei vantaggi al sito Regino che negli ultimi tempi ha fornito concreti risultati al gruppo, attraverso la fornitura di 47 treni di ultima generazione per la metropolitana di Milano. Nel frattempo si attendono segnali anche da parte della regione che, specie in un'ottica di un definitivo passaggio ai giapponesi, sarà chiamata a svolgere un ruolo chiave per la tutela di uno stabilimento considerato un'eccellenza nel panorama produttivo del mezzogiorno. Ed ora parliamo dell'incertezza sul servizio idrico Regino, insoddisfatti i sindacati dopo la presentazione dell'organigramma di personale che dovrà gestire il maxi appalto da 70 milioni di euro per la depurazione regina. La gestione del servizio idrico Regino è ancora in alto mare. Il colosso spagnolo Accionagua si è giudicato quale impresa capofila il maxi appalto da 70 milioni di euro per la gestione dei servizi integrati di Reggio Calabria. Esso prevede, tra l'altro, la costruzione dei nuovi impianti di depurazione e la dismissione di quelli obsoleti. Tuttavia restano ancora numerose questioni aperte. L'organigramma presentato dall'azienda ai sindacati, al contrario di quanto ipotizzato, non prevede il totale riassorbimento del personale della società Idroregion che, in precedenza, gestiva le attività. In assenza di novità, i lavoratori rischiano il licenziamento perché l'accordo raggiunto lo scorso ottobre da Idroregion e sindacati prevedeva il contestuale riassorbimento del personale nel nuovo raggruppamento. Ciò, tra l'altro, apre l'annosa questione di chi svolgerà provvisoriamente il servizio fino al 28 febbraio, secondo la proroga disposta dal Comune. Inoltre, anche la società spagnola appare insoddisfatta a causa delle lungaggini della burocrazia, considerato che al momento non è neanche arrivata l'assegnazione definitiva dell'appalto. C'è grande caos e non si intravedono soluzioni immediate. Il prossimo appuntamento sarà il 6 febbraio quando le parti interessate si incontreranno alla direzione provinciale del lavoro. In quella sede la situazione potrebbe sbloccarsi. Anche in provincia di Vibo Valencia scatta il piano neve. Il prefetto ha chiamato a raccolta i sindaci del comprensorio delle serre che hanno denunciato lo stato di degrado in cui versano le strade provinciali. Condizioni che, in caso di neve, potrebbero rappresentare un pericolo per gli automobilisti. Messo a punto ieri in prefettura Vibo Valencia il piano neve scatterà nel momento in cui sul Vibonese si dovessero verificare precipitazioni nevose di carattere eccezionale. In quel caso scenderanno in campo alcune ditte private già interpellate dalla provincia che ha messo a disposizione 100.000 euro. Una somma esigua che i comuni si dovranno far bastare. E ieri all'UTG c'erano tutti i sindaci del comprensorio delle serre che hanno denunciato lo stato di degrado in cui versano le strade provinciali. Dissesso che, in caso di neve, potrebbe rappresentare un serio pericolo per gli automobilisti. A conferma delle preoccupazioni dei primi cittadini la relazione del dirigente della provincia Giacomo Consoli. Attualmente noi abbiamo quasi mille chilometri di strade. Sono tante per un territorio piccolo come quello della provincia di Vibo. Su queste mille chilometri quasi 450 sono diciamo presentano dei dissesti idrogeologici del territorio naturalmente. Abbiamo 10 strade chiuse al transito e se non cambieranno le cose aumenteranno queste strade perché non possiamo permettere di far transitare automobili in strade pericolose. Per la messa in sicurezza delle strade provinciali sono già stati inoltrati alla Regione Calabria 13 progetti di mitigazione del rischio idrogeologico. Si è deciso di dare priorità agli interventi sui comuni di Brognaturo e DASA che appunto presentano delle aree critiche per la viabilità su questo settore. Quindi nei prossimi giorni la provincia di Vibo redigerà dei progetti e poi valuteremo insieme a loro il finanziamento diciamo di queste opere. Ci spostiamo ora alla Mezzia parliamo del caso Ciarapanì firmato il piano di rientro alla Mezzia Multiservizi si è impegnato a versare entro il prossimo 5 febbraio le somme arretrate alla Ciarapanì ma rimane la preoccupazione dei lavoratori visti i debiti contratti con le banche della cooperativa. Firmato il piano di rientro tra la Mezzia Multiservizi e Ciarapanì dovrebbe essere giunta ora ad un punto di svolta la questione dei lavoratori della cooperativa sociale dedicata alla raccolta dei rifiuti porta a porta che si erano visti recapitare un avviso di prelicenziamento. Oltre al piano l'amministrazione comunale ha effettuato dei mandati di pagamento alla Multiservizi che ora lì girerà alla Ciarapanì entro il 5 febbraio. Ma i lavoratori rimangono allerta e in attesa di ulteriori conferme. Durante il consiglio comunale di ieri è stata presente una loro rappresentanza e i sindacati hanno espresso le loro preoccupazioni. La paura è che buona parte della liquidità venga utilizzata per sanare situazioni debitorie che la cooperativa ha con le banche causate sempre dai mancati pagamenti avvenuti in passato dalla società partecipata del Comune. Ma non solo. I sindacati chiedono che il prossimo bando contenga clausole sociali. Se le cose rimangono allo stato attuale con il vincolo di 200.000 euro massimo l'anno da dare alle cooperative sociali ha spiegato il sindacalista Will Francesco Caccamo i lavoratori continueranno a non poter lavorare più di 21 ore settimanali e non potranno mantenere dei livelli reddituali adeguati. E su questo punto si è spinto anche il consigliere di gruppo misto Nicola Mastroianni che ha proposto una mozione per inserire nei capitolati di accordo la clausola sociale di salvaguardia per tutto il personale qualora dovesse verificarsi i ripotesi di passaggio dall'attuale gestione a una nuova ma anche che questa clausola diventi obbligatoria per la giudicazione di un'eventuale gara d'appalto del servizio. Si svolta questa mattina in prefettura a Cosenza la riunione per l'emergenza abitativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Prendo Casa e gli organi istituzionali della regione provincia comune di Cosenza dell'Aterp del Sunia e di Confedilizia sentite Un incontro questa mattina in prefettura a Cosenza per affrontare il delicato tema del disagio abitativo che colpisce una sempre più larga fetta di popolazione basti pensare che solo nel 2012 oltre 4.000 calabresi hanno fatto richiesta di un alloggio popolare a fronte di una disponibilità di solo 171 alloggi dato non aggiornato e sicuramente raddoppiato considerata la grave crisi economica degli ultimi anni intanto a Cosenza 70 persone tra cui bambini e anziani rischiano di finire in mezzo ad una strada perché le canossiane sorelle dell'ordine delle figlie della carità rivolgono lo stabile abbandonato da tempo che lo scorso anno è stato occupato abusivamente da famiglie indigenti noi chiediamo che la gente che sta che sta lì venga che si rimanga nelle canossiane perché le canossiane sono un luogo che era abbandonato da tre anni è un luogo che servirebbe solamente a fare nuova speculazione finanziaria e speculazione sul cemento è una struttura che può dare risposte vere sulla questione dell'emergenza pittiva non solo a chi vive lì ma anche mettendo altre persone all'interno di quella struttura quindi chiediamo che il prefetto e il sindaco facciano un atto di acquisizione o requisizione in modo che quella struttura venga adibita per la questione dell'emergenza pittativa Ridisegnare la mappa dei trasporti nel Catanzarese venendo incontro alle esigenze dei pendolari questo è l'obiettivo del primo di una serie di incontri organizzati nella sede dell'ente provinciale di Catanzaro presenti oltre al presidente Enso Bruno e rappresentanti delle associazioni di pendolari e di Trenitalia il presidente della provincia di Catanzaro Enso Bruno il comitato dei pendolari e dei dirigenti regionali di Trenitalia torna un tavolo per discutere del nuovo piano di collegamenti di autobus e treni sul territorio della provincia le proposte in campo sono tante tra queste l'istituzione del biglietto unico regionale da sfruttare liberamente su tutte le tratte ma soprattutto il necessario riordino degli orari dei mezzi in modo da facilitare le coincidenze per le centinaia di pendolari che ogni giorno si muovono passando dai treni agli autobus durante l'incontro si è parlato anche dell'istituzione di un osservatorio permanente dei trasporti regionali e locali per monitorare le criticità del servizio ferroviario e poter avanzare proposte di correzione e di adeguamento il presidente della provincia nei giorni scorsi ha accolto le istanze di alcune associazioni dal comitato pendolari linea ferroviaria ionica calabrese all'associazione pendolari ionici passando per ferrovia in Calabria giornalisti parisi in pol per la FNSI il segretario del sindacato calabrese al congresso di Chianciano candidato alla successione di Franco Siddi alla guida della federazione nazionale della stampa l'unica certezza che inquieta i giornalisti italiani è la crisi economica che al di là delle buone intenzioni spegne le luci delle redazioni e le speranze di quanti credono ancora nel giornalismo quale bandiera della libertà di stampa e della qualità dell'informazione così Carlo Parisi vice segretario nazionale uscente segretario del sindacato calabrese ai lavori del 27esimo congresso nazionale della federazione della stampa in corso di svolgimento al grande hotel dei congressi di Chianciano Terme presiduto da Giovanni Rossi la massima sise del sindacato italiano dei giornalisti è iniziata con la relazione del segretario nazionale Franco Siddi eletto al congresso di quattro anni fa a Bergamo che lascia la prima poltrona di corso Vittorio Emanuele a Roma due candidati al vertice della FNSI per il prossimo quadriennio Carlo Parisi e Raffaele Lorusso il leader dei giornalisti calabresi a Chianciano con 19 delegati tra professionisti e collaboratori ha messo a disposizione la propria candidatura per favorire le ricerche ad un impegno di rinnovamento del sindacato nazionale non sono venuto qui né col cappello in testa né col cappello in mano questo Siddi Camporese Cerrato Negri Rossi il nostro presidente lo sanno bene non ho fatto alcun accordo non ho chiesto alcun posto sono candidato a segretario generale della federazione della stampa e la mia è una candidatura vera convinta sostenuta da quanti tra i 309 delegati sono venuti al congresso per discutere confrontarsi condividere non per ratificare scelte imposte dall'alto senza alcuna consultazione né condivisione tra quanti con coraggio e fedeltà hanno sempre creduto e difeso nella federazione nazionale della stampa e a Chienciano per il congresso della federazione nazionale della stampa erano presenti tra i delegati calabresi Franco Cavallaro segretario nazionale della CISA lei Michele Albanese giornalista del quotidiano del sud da circa un anno sotto scorta e noi li abbiamo intervistati e Carlo si candida alla segreteria nazionale e speriamo che sia di buon auspicio per affrontare davvero i problemi e risolverli di questa categoria che è stata sempre maltrattata ci sono tante persone che stanno convergendo su Carlo per i calabresi è un orgoglio e speriamo che tutto vada bene in questo momento di abbattimento della credibilità dei riferimenti sociali civili mi riferisco alla politica alle società intermedie lo stesso sindacato è in crisi io penso che la stampa ha un ruolo importantissimo per la tutela la difesa della libertà dei diritti io spero di portare la mia testimonianza di uomo libero e di un cronista che ha cercato di fare il suo lavoro e per questa ragione sta vivendo quello che sta vivendo con la speranza di contribuire a rendere più credibile la federazione nazionale della stampa che non può solo ed esclusivamente fare le proprie scelte in stanze chiuse dalla Ferrero alle scuole un ex dirigente della grande azienda italiana alla Mezzia per premiare i talenti William Salice ex dirigente Ferrero ha creato una fondazione impegnata da anni nella valorizzazione dei giovani talenti oggi è stato a La Mezzia nell'istituto tecnico commerciale De Fazio sentiamo è stato tra coloro che hanno contribuito a creare mass come Lovetto Kinder i cioccolatini Ferrero Rocher i Moscheri ha passato una vita all'interno dell'azienda Ferrero con una dedizione e uno spirito di abnegazione tali che quando nel 2007 è andato in pensione ha voluto dare la sua esperienza e la sua passione agli altri William Salice ex dirigente della Ferrero è stato questa mattina alla Mezzia Terme nell'istituto tecnico commerciale De Fazio per presentare la sua ONLUS la fondazione Color Your Life il leitmotiv della fondazione è quello di premiare i giovani di talento aiutandoli a costruire il loro futuro a diventare ricercatori innovatori imprenditori ecco perché Salice ha creato la Dreamer School e in un secondo momento ribattezzata il Color Campus con sede all'Oano dove si svolgono in estate i percorsi di formazione e orientamento d'eccellenza i giovani compresi tra i 13 e i 18 anni accedono ai moduli estivi della durata di 12 giorni completamente gratuiti partecipando ai bandi promossi dalla fondazione tramite un'autopresentazione e un progetto gli elaborati vengono poi affidati a un gruppo di valutazione composto da esperti dei diversi settori che individuano i più meritevoli ne verranno scelti i 157 che verranno sostenuti nel raggiungimento del proprio obiettivo professionale anche quest'anno l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro ha partecipato all'evento telefisco organizzato dal sole 24 ore commercialisti ed esperti di economia in collegamento diretto da Roma con la platea dell'auditorium Casalinuovo di Catanzaro 8 ore di videoconferenza per confrontarsi sulle novità in materia fiscale alcune delle quali già incluse nella riforma varata dal governo nel febbraio 2014 e altre ancora da discutere l'evento come ogni anno è stato organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catanzaro in collaborazione con il sole 24 ore quest'anno si parlerà adesso in questa giornata di argomenti importanti di riforme che riguardano la determinazione del letto dei professionisti in alcuni casi anche la determinazione del letto delle imprese di novità anche i fiscali in materia di dichiarazioni dirette adesso i contribuenti riceveranno il modello di dichiarazione precompilato già dall'agenzia delle entrate si parte con il modello 730 poi si arriverà anche con gli altri modelli durante i lavori del convegno sono state trattate tutte le novità tributarie del 2015 dalle semplificazioni fiscali al regime dei minimi la fatturazione elettronica e l'autoriciclaggio a far discutere soprattutto il cosiddetto scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero sul quale il presidente dell'ordine dei commercialisti di Catanzaro Francesco Muraca ha espresso particolari perplessità i condoni sono un premio per i contribuenti disonesti così bisogna dire effettivamente e sono invece diseducativi per i contribuenti onesti quindi ecco il rientro dei capitali dall'estero che lo si fa sistematicamente effettivamente è una sorta di condono e questa è una delle novità in breve le altre notizie di cronaca il presidente della regione Mario Oliverio ha espresso soddisfazione per il decreto con cui il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi ha stabilito il nuovo piano nazionale che identifica due grandi gruppi di aeroporti 11 di tipo strategico e 26 di interesse nazionale e quanto si afferma in un comunicato della segreteria politica del presidente Mario Oliverio tra gli aeroporti strategici la Calabria è riuscita ad ottenere l'inserimento dell'aeroporto di La Mezzia Terme insieme con Milano Malpensa Venezia Bologna Roma Fiumicino Napoli Bari e Catania a condizione che tra gli stessi si realizzi la piena integrazione societaria e industriale tra i 26 aeroporti di interesse nazionale sono stati inseriti Reggio Calabria e Cortone tutto pronto a Locri per l'avvio della stagione teatrale invernale curata dal centro teatrale meridionale con il patrocinio del comune di Locri che si terrà nel palazzo della cultura sono quattro gli spettacoli previsti e con cadenza mensile la tipologia di partecipazione è legata all'acquisto di un biglietto ma anche attraverso l'abbonamento che garantisce risparmio e accesso a tutti gli spettacoli il primo appuntamento è previsto per sabato 31 gennaio alle ore 21 con la Trinacre e Femmina alcune oasi del WWF in Toscana Veneto Lazio Sicilia e Puglia saranno aperte il prossimo weekend del lunedì seguente 2 febbraio per celebrare la giornata mondiale delle zone umide le aperture ricorda l'associazione ambientalista arrivano in coincidenza con la chiusura della stagione venatoria il 31 gennaio e offrono quindi l'occasione per osservare tutte le specie animali che affollano durante l'inverno le zone umide la giornata mondiale istituita per ricordare la firma della convenzione di Rasmar siglata in ira nel 2 febbraio 1971 a tutela delle zone umide di rilevanza internazionale ricorda l'urgenza di difendere laghi lagune e corsi d'acqua e il loro ruolo insostituibile per le specie migratorie e per le numerose attività economiche che sostengono quali la pesca il turismo e l'agricoltura è tutto vi lascio allo sport e vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale questa sera alle 20 grazie per averci seguito buon pomeriggio visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia e della che facciamo a